Tre argomenti, signori, triplo argomento in questo giovedì sera. Dobbiamo parlare di due argomenti di calciomercato e mezzo, perché comunque uno è un ritorno al passato, dobbiamo tornare indietro nel tempo con la mente, con la fantasia. Questa cosa me l'ha ispirata Alfredo Pedullà, ho visto il suo video caricato sul canale YouTube, mi lascio magari il link qui sotto in descrizione, dove raccontava di un viaggio in treno dove c'era stato un suo incontro insieme a Massimiliano Allegri. All'epoca Pedullà lavorava sia per Sport Italia che per il Corriere dello Sport, dove Zazzaroni era già il direttore. Aveva avuto questa indiscrezione legata a Sarri come futuro allenatore della Juventus, sui suoi profili social, quindi Twitter, eccetera, eccetera, aveva comunicato la notizia così come l'aveva comunicato a Sport Italia e poi invece Zazzaroni, o comunque chi per lui, gli aveva vietato di parlare di Sarri come ipotesi legato al futuro allenatore della Juventus sul Corriere dello Sport perché non era un nome che volevano far uscire. Poi lo stesso Pedullà insieme a Zazzaroni si ritrovano in treno insieme a Massimiliano Allegri ed è Massimiliano Allegri che andrà a rivelare che l'allenatore della Juventus che lo andrà a sostituire sarà proprio Maurizio Sarri. Ecco, questa è una storia che vi ho riassunto all'osso, ripeto, andatevi ad approfondire la tematica se siete interessati, ma secondo me fa capire anche molto quello che arriva a noi, quello che filtra lato nostro su tutte le notizie sportive. L'altro giorno qualcuno mi ha lasciato sotto un video un commento con scritto sono tutte considerazioni personali e io ho risposto per forza di cose, è un canale di opinionismo sportivo e come potrebbe essere diversamente, lo sapete, io tutte le volte che faccio un video mi trovo qui a commentare le notizie che danno altri giornalisti, altri addetti ai lavori perché quello è il loro mestiere. Io non faccio di mestiere il giornalista sportivo, non sono un insider ma anche il giorno in cui sarò giornalista molto probabilmente non sarò quello che andrà a darvi le notizie cioè bisogna anche dividere le categorie. Io ad oggi voglio semplicemente raccontarvi quella che è la mia visione è una chiacchierata, così come è stata una chiacchierata secondo me sono molto interessanti dei contenuti di retroscena su quello che è accaduto ma spesso e volentieri non c'è nemmeno bisogno di averle le fonti e torno proprio a quel momento in cui c'è la conferenza stampa d'addio di Massimiliano Allegri e c'è un video caricato qui sul canale di ormai cinque anni fa nel quale vi dico, sapete una cosa? Mi è venuto il dubbio che Sarri possa essere il prossimo allenatore della Juve lo trovate eh? Andate a cercare Luca Toselli, conferenza stampa d'addio Allegri, robe del genere o Sarri Toselli, allenatore della Juve, trovate tutto e io mi ricordo i commenti, magari andatevi a leggere tanta gente che diceva, ma va là, ma secondo te è una follia, è una pazzia non potrà mai essere così, figurati se la Juve va a prendere Sarri eccetera eccetera quell'uscita di Allegri su cui viene giù tutto è stata semplicemente una battuta nulla più, non dovete vederci dietrologie, invece no, diciamo che ci avevo visto giusto e in quell'estate mi ricordo, separato di tanti profili, si è sognato con Zidane, si è sognato con Guardiola, ma poi a un certo punto una fonte mi era arrivata e io ne ho poche ma quelle poche volte che qualcuno di affidabile o che ritengo affidabile mi dice qualcosa io ve lo comunico e mi avevano detto Sarri sarà l'allenatore della Juve e sul canale continuavo a parlarvi di Sarri, l'allenatore della Juventus non sono più come percezione ma come conferma e la gente mi diceva, io non capisco come fai a dire che sarà così è palese che la Juve stia puntando ad altro, poi il resto è storia quindi per tornare a quel ragazzo che mi chiedeva che mi diceva, è un video solo di considerazioni personali a volte le considerazioni personali possano trovare delle conferme e credo che sia molto meglio questo rapporto trasparente tra me e voi e cioè ho poche soffiate, quando ho quelle soffiate ve le dico perché se no sarebbe semplicemente mettersi qui a inventare cose ogni giorno per farvi avere qualcosa in pasto ma le mie congetture, i miei ragionamenti, le mie ipotesi sono una cosa quando vi dico attenzione che succedano determinate cose è un altro paio di maniche e ne avevamo parlato in precedenza anche ieri ho toccato l'argomento sul video di Tiago Motta e vi ho detto grazie per aver scelto anche la controinformazione per aver dato fiducia anche a canali youtube come il mio e non solo ai giornali e questa cosa si incastra perfettamente lì e deve farvi anche forse un pochettino ragionare sul fatto che l'informazione sportiva è manipolata a piacimento da quello che un determinato giornale vuole dire o non vuole dire poi stiamo parlando comunque dell'eventus che deve scegliere un allenatore e il nome è quello che piaccia o non piaccia ma poi ci sono sempre una serie di dietrologie io mi ritengo molto fortunato a potermi mettere qui e dire quello che mi passa per la testa senza filtri, senza uno che mi dica questo lo puoi dire e questo no lo stesso Alfredo faceva capire tanta frustrazione dietro a questa vicenda della serie io ho lavorato, io ho analizzato, io ho verificato e poi mi ritrovo con il pugno di mosca in mano ecco io sono molto fortunato invece a potervi dire tutto quello che viene detto qui deve essere controllato da una sola persona principalmente cioè il sottoscritto me medesimo e quindi posso dirvi tutto quello che voglio e sempre da uno dei social delle piattaforme gestite da Alfredo Pedulla quindi il profilo Twitter oggi ho letto un pezzo, un articolo che riguarda Calafiori e ci sono le parole di Fenucci che è l'amministratore delegato del Bologna dopo la conferenza di presentazione di italiano che dice noi vogliamo continuare con tutti i giocatori che hanno costruito questa realtà abbiamo già comunicato alla gente di Calafiori che da parte nostra non c'è la benché minima intenzione di cederlo vale per Riccardo come per tutti gli altri ora hanno risuonato, rimbombato il Bologna non vende Calafiori già qualche giorno fa parlavamo di quella valutazione a mostra di 50 milioni di Calafiori ancora una volta guarda a caso a volte fanno dei giri immensi e poi ritornano ancora una volta il Corriere dello Sport ancora una volta di Ivan Zazzaroni 50 milioni per Calafiori e oggi invece rimbalza il Bologna non cede Calafiori ma sarà davvero così? sarà effettivamente così? o sono parole di circostanza giustissime da parte di un amministratore delegato che blinde il ragazzo al pari di tutti gli altri? se perché il Bologna farà zero cessioni questa estate lo trovo un pochettino complicato anche perché il Bologna ha cambiato guida tecnica e quindi magari l'italiano avrà necessità di una squadra diversa di quella di cui disponeva Tiago Motta banalmente è proprio la banalità più importante terrà tutti i giocatori che avevano non faranno nessun tipo di operazione sarebbe quantomeno curioso se non impossibile quindi direi che queste parole lasciano il tempo che trovano terzo argomento Alvaro Morata perché l'altro giorno Giovanni Albanese proprio qui ha tirato fuori l'argomento io devo dirvi la verità ci ho pensato sopra il nome di Alvaro Morata e mi ero ripromesso di arrivare a dirvi guardate che la Juve deve iniziare a riguardare avanti e non indietro cioè anche quando l'altro giorno facevamo il nome di Berardi e Zagnolo dicevo per fortuna questi nomi non sono più di prima fascia come è successo fino agli anni scorsi anche banalmente all'ultima estate si vanno ad analizzare profili differenti e quindi il nome di Alvaro che ha già avuto un ciclo bis alla Juve pensate un ciclo tris di Alvaro Morata sarebbe forse esagerato però allo stesso tempo mi sono detto lasciandola fare da parte tutto l'affetto che nutrono i confronti della ragazza ed è tantissimo perché quella cavalcata che ci ha portati a Berlino io me la ricordo ancora bene io ero a Berlino il gol di Morata è stato semplicemente meraviglioso e godurioso Morata avrebbe senso in questa Juve e l'altro giorno Giovanni ci parlava di Morata come vice Vlaovic ruolo che oggi occupano sia Milik che Ken e allora se Ken è destinato ad uscire si è parlato di Atalanta si è parlato di Bologna si è parlato di Parma si è parlato di Fiorentina si è parlato quasi di mezza Serie A per Moise Ken scambiare Ken per Morata sarebbe un upgrade cavolo sì decisamente sì Milik è alle prese con questa operazione al ginocchio che lo terrà fuori per qualche settimana ma Morata potrebbe essere un nome secondo me molto interessante principalmente per Tiago Motta e ve lo dico senza giri di parole per quanto mi riguarda il ritorno di Alvaro Morata con ancora Massimiliano Ligri in panchina da parte mia sarebbe stato un grande no perché sappiamo bene quello che può dare Morata sappiamo bene come l'ha utilizzato Allegri nel ciclo bis e non è il giocatore che serve alla Juve o almeno dipende se viene utilizzato insieme a Vlaovic a Quadrado di Bala in 4-2-3-1 come avevamo visto ci poteva pure stare ma per quella che è stata l'avventura di Morata alla Juventus sotto il secondo ciclo di Allegri non è stato l'attaccante della prima volta dove era in un misto in un fritto misto contorno di campioni Alvaro era stato super impattante però Alvaro Morata è un centravanti molto moderno centravanti di quelli che deve aggredire lo spazio centravanti che si muove tanto nello spazio e Tiago Motta è un allenatore che guarda molto lo spazio è un calcio molto più fluido se vogliamo quasi sulla falsa riga è quello di Pirlo dal punto di vista dell'interpretazione degli spazi poi ci auguriamo che Tiago Motta possa fare meglio di Pirlo alla guida della Juve però non dimentichiamoci che Morata in quel ciclo bis il primo anno con Pirlo era andato molto molto bene in appoggio anche banalmente a Cristiano Ronaldo aveva segnato tantissimi gol sono passati anni Alvaro 92 farà 32 anni esattamente come me quindi se l'obiettivo è prendere Morata a 20 milioni di euro di cartellino più 6 di ingaggio la mia risposta secca è no grazie il mare è pieno di pesci andate a pescare da un'altra parte se invece il discorso è Alvaro si libera a poco una decina di milioni o magari in uno scambio con un giocatore che è in uscita oggi leggevo di una possibilità addirittura di inserire Costic nella trattativa allora la provocazione ve la devo fare se l'avventus riuscisse a incastrare una trattativa della serie Costic a Madrid e Morata a Torino lo riprendereste come attaccante di riserva che non deve essere visto come titolare ma semplicemente come giocatore funzionale a giocare con Vlaovic senza Vlaovic al posto di Vlaovic in coppia con Vlaovic come punta magari anche come esterno in un 4-3-3 quando si vorrà giocare con il 4-3-3 e robe del genere perché ripeto io mi ero mi ero ripromesso di dire di no però più penso a quello che è stato anche Morata con la Spagna no? un po' riferimento offensivo di un calcio di palleggio comunque a tutti gli effetti e più penso che con Tiago Motta Morata potrebbe essere veramente un bel giocatore ma solo a prezzo di saldo solo in caso di occasione irrinunciabile se no ovviamente è giusto guardare avanti e altri nomi ma sapete perché vi faccio questa domanda? perché questa riflessione l'ho portata sui social su Twitter e su Instagram e con grande sorpresa ho trovato tanti commenti che andavano a sposare questa mia tesi perché io pensavo di aver detto un popolo a rupino un pazzesca pensavo che il nome di Morata potesse essere visto da tanti come semplicemente l'ennesima minestra riscaldata e il ritorno e basta guardiamo avanti ci sono stati quei commenti ma sono stati una netta minoranza e allora questa cosa mi ha sorpreso e voglio rigirarvela anche qui su YouTube nel cercare di analizzare quest'operazione di mercato che probabilmente a Torino stanno prendendo in considerazione stanno cercando di capire quali possano essere gli incastri fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti su tutte e tre le tematiche di questo video Calafiori Morata è l'informazione sportiva principale e quella secondaria magari come siamo noi qui sul canale YouTube ciao a tutti